Ciao a tutti, è scomparso durante il fine settimana e adesso? In questo video voglio spiegarti cosa fare quando hai conosciuto un uomo, bla bla bla, se mi è andato a posto, poi durante il fine settimana, tac, magicamente scompare. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni in seminario dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso veniamo al tema, è scomparso durante il fine settimana e adesso? Allora, hai incontrato un uomo, hai iniziato a scambiare messaggi, ti è piaciuto, magari hai passato la notte al cellulare a chattare, a scrivere, a fare videochiamate, insomma, magari vi siete anche visti, sì o no, non importa, ma poi che succede? Succede che nel weekend, paf, sparisce, il fine settimana sparisce e magari è più di uno e allora, come dire, tu hai subito un tracollo, spesso questo succede, inizia a pensare, ecco, sono sola, sono tutti felici tranne me, sono una fallita, bla bla bla, e finirai, diciamo, per stare male. E allora che cosa, che cosa devi fare? Beh, intanto lui poi si rifarà vivo. E allora qual è il problema? Che se tu accetterai di rivederlo, magari di ridargiela se gli hai già data, e finirai per dirgli di sì e magari anche andare a casa sua, poi alla fine te ne pentirai e il ciclo ricomincerà. E lui ti rivedrà, magari appunto gli farai anche un servizio completo a casa sua o lui viene a casa tua, magari dove gli offrirai pure la cena, stare lì e poi magari a fine settimana se ne risparisce, eccetera. E magari ti dice anche, no, ma perché ho gli amici o qua o là, insomma, e ti racconta questa, ti racconta quella, ma in realtà sono tutte favole, ovviamente, come tu potrai ben immaginare, penso che non ci voglia molto a capire, insomma, qual è la cosa, situazione, la situazione vera e propria. Quindi, che, qual è il motivo? Perché sparisce? Beh, allora, la prima cosa, diciamo, è che ovviamente se il fine settimana sistematicamente sparisce perché è una relazione, probabilmente non ha una relazione con una persona che vive nella stessa città, ma ha una relazione con una persona che abita fuori e che, con la quale si vede il fine settimana. Questo spiega anche se lui, il fatto che lui ti faccia venire a casa, a casa sua. Se invece a casa sua non ti fa andare, ma vuole andare a casa tua, potrebbe darsi che comunque ci sono, questa persona qua la vive anche, vive anche situazioni con questa persona anche da lontano, tra virgolette, ma, oppure è una persona che abita in zona, insomma, non è che abiti così lontano. Quindi questo è la cosa fondamentale, devi tenere presente questo. Un altro punto che devi tenere presente è che ti ha preso pure per stupida. Ti ha preso per stupida perché pensa che tu ti possa, come dire, ti possa bere le cose che ti racconta fondamentalmente. Poi invece ci sono quelli, come terzo punto, che te lo dicono proprio, no, guarda, hai una relazione a fine settimana, e allora se tu accetti, ma accetti soffrendo, beh, come dire, che causa del suo mal pianga se stesso. Ma comunque in ognuno di questi, cioè, è evidente che se lui finissima sparisce, è naturale, è certo, come dire, è garantito che hai una situazione di questo genere. Quindi tu devi tenere presente un fatto fondamentale, che per qualunque motivo, prima di coinvolgerti con un uomo, prima, tassativamente, prima di coinvolgerti con un uomo, devi saper gestire la situazione, devi saper gestire assolutamente la situazione. Quindi devi imparare a leggere i segni che gli uomini danno, e questo è fondamentale, è un segnale di seduzione, diciamo, un segnale di seduzione certo, un segnale di seduzione, cioè, un segnale certo che un uomo ti dà, è che se il fine settimana sparisce, ha un'altra donna. Non ci sono altre possibilità. Terzium non datur, cioè, o ha un'altra donna, oppure ha un'altra donna. Queste sono le ultime, cioè, non è che ha un'altra donna, tu sei l'altra donna, perché poi questa è anche una cosa interessante, no? Cioè, è ovvio che tu non sei quella prioritaria, perché comunque quella prioritaria è quella alla quale dà più spazio, è quella alla quale dà la possibilità, ad esempio, di vedersi il fine settimana, ma probabilmente ha una relazione stabile, una relazione a distanza, insomma, comunque sia, non rinuncerebbe mai all'altra persona per te. E la cosa peggiore che puoi fare è metterti in competizione da questo punto di vista. Questo è la cosa peggiore veramente che tu puoi fare. Metterti in competizione con un uomo in questo modo è veramente una cosa allucinante, non ha veramente nessun senso. È veramente totalmente sbagliato. Non devi assolutamente metterti in competizione con un uomo, cioè, metti in competizione, cercare di sperare che lui possa lasciare l'altra per te, perché comunque non lo farà. E comunque tieni presente, poi, che se lui tradisce l'altra, non è perché non l'ama, è perché tu rappresenti la trasgressione. E caso mai dovessi diventare la persona istituzionale, tradirebbe pure te, perché la cosa difficile da fare è quella di trasformare le persone. Le persone comunque non cambiano, hanno avuto un imprinting, l'imprinting è natura, se vogliamo, no? Quindi quella è difficile veramente riuscire a farla cambiare. Quindi devi imparare a chiudere e non coinvolgerti. Cioè, devi avere un obiettivo chiaro nella tua testa e ragionare per obiettivo. L'uomo, la persona, deve diventare uno strumento in grado eventualmente di farti raggiungere il tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo è quello di costruire una famiglia, di avere una relazione stabile, quello è l'obiettivo. La persona è solo uno strumento, non è mai niente di più. Quindi se tu vuoi ottenere dei risultati, devi praticamente cercare di, come possiamo dire, se tu vuoi ottenere dei risultati, devi non fossilizzarti sulla persona. Se una persona dà dei segnali, come ad esempio quello che il fine settimana sparisce, chiudi subito e non stare lì a perdere tempo e guarda oltre. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, scegliendo diversi livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!